Pacchino, carenza idrica e servizio inadeguato, sindaca Petralito al lavoro per risolvere le dispersioni. Acqua ne abbiamo in abbondanza ma la gestiamo nella maniera meno corretta. Ogni giorno per via dell'infrastruttura di distribuzione faticemente perdiamo 157 litri per ogni abitante. Lo spreco di acqua in Italia è un problema cronico con dimensioni enormi. L'acqua dispersa dagli acquedotti basterebbe per soddisfare il bisogno idrico di 43 milioni di persone e più di 7 italiani su 10. Lo rivela l'Istat in un dossier sulla gestione idrica nel Bel Paese pubblicato in occasione della giornata mondiale dell'acqua che si celebra oggi 22 marzo. In virtù di tali atti ieri si è tenuto un incontro operativo alla presenza dei tecnici comunali e del Presidente del Consiglio con l'ingegnere Alessandro Aiello incaricato di redigere il progetto sulla condotta idrica esterna proveniente dalla sorgente di Scala Arancio. Il Comune di Pacchino è beneficiario di un finanziamento di un milione e mezzo per la progettazione e l'appalto della manutenzione straordinaria della sostituzione della condotta adduttrice esterna dalla sorgente di Scala Arancio fino al serbatoio comunale. In tal modo avremo un cospicuo potenziamento idrico potabile per la città evitando perdite e dispersioni.